Prorogato di un mese dalla regione dall'ASREM il bando da 70 milioni di euro per l'affidamento dei servizi di manutenzione della rete sanitaria e ospedaliera. Il termine iniziale fissato al prossimo 14 febbraio alle ore 12 è stato prorogato al 12 marzo, medesima ora. La proroga, come scrive nella sua determina il direttore della centrale unica di committenza Giocondo Vacca, è dovuta alle numerose richieste di chiarimenti pervenute da parte degli operatori economici interessati a prendere parte alla gara. La cifra è ghiottissima e attorno alla questione si è scatenato un giro di multinazionali intenzionate a mettere il cappello sulla posta in palio e assicurarsela per i prossimi sette anni. Tanto è il termine dell'affidamento. Di conseguenza anche l'apertura delle buste prevista per il 21 febbraio alle ore 10 è adesso slittata alla stessa ora del 20 marzo. Tutto molto preciso e organizzato. Quello che invece resta nascosto da un nebbione da Valpadana è il futuro dei lavoratori attualmente impiegati nei servizi in questione, dipendenti di ditte esterne e subappaltanti dei quali non si conosce al momento nemmeno una ricognizione numerica. Si tratta certamente di decine di persone, vista l'estensione del sistema sanitario e viste le molteplici necessità manutentive delle strutture ma concretamente nessuno conosce il numero esatto delle maestranze coinvolte. Una richiesta in tal senso è stata avanzata ma è tuttora caduta nel vuoto da parte della CGL. Il sindacato è a buon motivo preoccupato della sorte di questi lavoratori di cui nel bando non si fa menzione alcuna quanto a clausole di salvaguardia e a obblighi di riassunzione da parte dell'impresa che si aggiudicherà il bando. L'auspicio è che questo mese destinato ai chiarimenti chiarisca anche questa questione e il futuro dei lavoratori coinvolti. Parrebbe infatti davvero singolare che una regione zelante sino ai limiti della pedanteria si fosse scordata dopo aver allestito carte, soldi, numeri, scartoffi e procedure di mettere in sicurezza l'unica cosa in questa vicenda che abbraccia occhi famiglie e figli da campare ovvero i lavoratori. Speriamo che seppure a sparo avvenuto qualcuno se lo ricordi.